Non solo per bere un caffè. L'ultima novità a Torino per quanto riguarda l'offerta dei bar è quella dei catcaffè, locali per amanti dei gatti in cui i felini saranno gli unici e assoluti protagonisti. Un'idea importata dall'estremo oriente che vedrà nascere in città ben due bar a inizio 2014. Noi siamo la prima esperienza di questo tipo in Italia perché siamo un gruppo di amici con la passione per gli animali, in particolare per i gatti e abbiamo costituito un'associazione animalista e abbiamo intenzione di effettuare questa operazione anche di avvicinamento tra il mondo degli animali e il mondo degli umani in una società dove è sempre più difficile per tempi, per spazi, per mille motivi anche legati ai ritmi di vita che abbiamo gestire un animale domestico. Una cosa importante è che noi abbiamo declinato quest'idea in un modo del tutto diverso da quella di partenza, cioè da quella giapponese. Nei necocaffè giapponesi sono presenti gatti che sono gatti di razza che partecipano a concorsi eccetera. Noi abbiamo pensato invece di avvalerci della collaborazione di gatti di grondaia e quindi gatti che noi salveremo da situazioni di disagio, comunque di non assoluta tranquillità. Per cui ecco, questo ci differenzia molto rispetto alle esperienze precedenti. Inevitabile che una simile iniziativa desti l'interesse degli enti di protezione animale, pronti a verificare che tutto sia fatto nel rispetto dei felini. Noi abbiamo qualche perplessità su questo tipo di attività legata al fatto che il gatto è un animale non sociale. Nel senso che è un animale che molto spesso ha bisogno di relazionarsi solo con i suoi simili, ha bisogno tante volte di essere lasciato in pace e quindi questo utilizzo dell'animale per fruitori che in realtà probabilmente vanno in queste strutture proprio per relazionarsi con questo tipo di animali non sempre potrebbe andare a buon fine. Ovviamente il controllo dell'aspetto sanitario, dell'aspetto igienico sarà demandato all'autorità. Io confido che chi apre queste strutture le faccia innanzitutto per far adottare quegli animali, quindi dar visibilità a quegli animali e non li strumentalizzi. Questo confido tantissimo e confido anche che gli animali abbiano il loro spazio per vivere in modo sereno. La situazione dei gatti in città è sotto controllo, ma merita attenzione. La situazione dei gatti nell'area metropolitana, nella fattispecie di Torino, è una situazione ovviamente in evoluzione perché sono animali che assolutamente hanno un ciclo riproduttivo molto ampio. Però al tempo stesso e grazie anche agli interventi fatti in sinergia con il Comune di Torino, è una situazione sotto controllo, nel senso che le colonie feline vengono sterilizzate e in questo modo si fa in modo che l'animale, il gatto, che non è un animale sociale per sua natura, resti sul suo territorio e ovviamente non generi quelle problematiche determinate dall'eccessiva riproduzione che farebbero in modo di far diventare quest'animale un problema. Non dobbiamo dimenticare infatti che la presenza del gatto nell'area metropolitana, comunque nelle città, è importante perché è il miglior derattizzatore naturale che esiste al mondo.